Sala è un nome che fa paura, intanto chiudiamo bene Expo e mi sembra che io sono entusiasta del risultato che Expo sta ottenendo alla faccia, se è Renziano dei Gufi, alla faccia dei Portasfiga se è Milanese e Lombardo come noi eccetera, quindi ancora ieri un successo clamoroso, record di presenze, Sala poi deciderà lui che cosa vuole fare nella vita, ricordo che è stato city manager e quindi sarebbe ironico, è stato city manager del sindaco Moratti scelto dal centrodestra ed è stato scelto dal centrodestra per fare l'amministratore delegato di Expo, quindi perfetto per essere un candidato del centrodestra.